Oggi non è una bella giornata di sole come lo è stato nelle ultime tre edizioni, non ci scoraggiamo perché comunque oggi la gente c'è e soprattutto domani sarà una bella giornata, ce lo auguriamo per tutti coloro che non potranno venire oggi, domani potranno visitare l'Antica Fiera San Gregorio con tutte le esposizioni, le mostre e tutti gli eventi che sono collegati all'Antica Fiera San Gregorio. Questo è il tema dell'Antica Fiera San Gregorio, lo è stato negli ultimi anni e continua ad essere la tradizione viticola ma agricola in generale, l'innovazione tecnologica ma anche l'innovazione nella sburocratizzazione per le piccole e micro imprese che parte proprio da Valdo Biadane, questa iniziativa dell'azienda sanitaria US2 della marca trevigiana che vuole garantire un'attività seria, costante ma anche più semplice per tutte quelle micro imprese alimentari che nel nostro territorio e soprattutto a Valdo Biadane stanno creando un'importante economia. Quindi fa piacere che l'Antica Fiera San Gregorio dia spunto a queste iniziative che poi durano nel tempo come lo è stato dieci anni fa per le piccole produzioni locali. Direi ad esempio la confraternita rappresenta l'innovazione e la tradizione, la tradizione ovvero la storia del prosecco e l'innovazione, il saperlo fare bene, il saper rispettare l'ambiente e il saper anche rispettare il consumatore. Per questo è un grande vino. Qui a Valdo Biadane si presenterà nei prossimi giorni, la Fiera di San Gregorio lancia un po' questo cantiere, il museo del paesaggio, Villa dei Cedri tornerà un polo culturale dove puntare proprio sul territorio e sul paesaggio. Bene, è esattamente quello che vogliamo, cioè pensare di essere patrimonio dell'umanità, avere 15 comuni nel patrimonio dell'umanità e da qui partire con dei messaggi nuovi, un modello da replicare a livello mondiale. Non è corretto accusare i nostri viticoltori di pratiche abnormi perché noi sappiamo benissimo qual è l'intendimento di tutti che è quello di inquinare di meno e avere un'agricoltura sostenibile, però è corretto dire anche ai consumatori che in questa fascia climatica e in tutto il mondo tutti gli altri inquinano molto di più dei nostri prosecchisti come li chiamate voi. Noi ormai è una collaborazione che dura 5-6 anni, quindi con piacere che siamo qua presenti perché questa è una fiera storica, tradizionale, l'accoglienza di Valdobbiadene è meravigliosa, per cui diamo il nostro contributo, promuoviamo quella che è la mostra internazionale del gelato e anche la giornata europea del gelato che è il 23 di marzo, per cui promuoviamo in questo caso il gelato e il gelato con il prodotto locale che è il prosecco. Abbiamo avuto anche quest'anno un buon successo, meno dell'anno scorso come partecipanti, 12 partecipanti al concorso, c'è stata una giuria che ringrazio, erano presenti i maestri De Pellegrin Giorgio e un altro collaboratore insieme ai giurati, hanno definito la gradatoria che sarà svelata oggi e questa è una forma di collaborazione fra i nostri territori. Grazie.